Qua e cosa chiedete? Siamo qua a Roma oggi per manifestare contro il governo, sia il governo precedente che questo governo che c'era. C'è stato un rimpasto, c'è sempre Speranza, il ministro Speranza che ci sta uccidendo già da 14 mesi. Facciamo parte della categoria degli storatori. Io sono siciliana, siamo venuti oggi a Roma perché noi dobbiamo aprire i ristoranti nuovamente, dobbiamo lavorare anche noi. Hanno chiuso soltanto ristoranti e pizzerie e paventi. Ora basta, 14 mesi senza lavoro, 14 mesi senza cassa integrazione, 14 mesi pagando affitti, pagando le bollette, non hanno bloccato nulla. E i ristori che danno è bene che la gente sappia che il governo si fa la bocca larga ma manda, non ristori, manda le mosi, manda le mosi. A un ristorante se tu gli mandi 5.000 euro, 3.000 euro con un fatturato di 600.000 euro non se ne fa nulla, non se ne fa nulla. Non siamo gli un corno, il virus non c'è al ristorante, noi rispettiamo tutti i protocolli, chi sbaglia paga, verrà punito, ma non puoi per qualcuno punirci tutti. Lei si è messa le corna come angeli in segno di protesta? Io mi sono messa le borne in segno di protesta ma sono molto pacifica, non ho nulla contro la polizia che sta facendo il proprio lavoro. Però se loro fossero meno pezzi di merda, il governo, non avrebbero paura di gente per bene che vuole andare solo a parlare. Noi vogliamo essere ascoltati da un governo che non ci ascolta. La polizia fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia. Come io vorrei tornare a fare il mio lavoro? Io da 14 mesi non guadagno più un euro, non ingasso più un euro e ho famiglia, ho casa, ho buti, non so come arrivare più a fine mese, già non ci arrivavo prima, ora è peggio ancora. Come ti chiami tu? Speranza si deve dimettere. Io mi chiamo Sandra Di Bella, vengo da Catania.